Sono il papà di Sante Convertini e questa è la sua storia. Sante nasce il 25 novembre 1986 a Putignano in Puglia. È un bambino sveglio, allegro, felice e senza alcun tipo di problema. Cresce e si diverte. Con il tempo era maturata in lui una grande passione per le auto e per le moto che andando avanti si sarebbe trasformata in lavoro, facendo di lui un meccanico. Nel 2007 conosce Stefania, l'amore della sua vita, ma ecco che le cose nel 2008 cambiano. Mio figlio, 22enne, viene ricoverato all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti per vasculite retinica, ovvero un'infiammazione dell'occhio. Esce dall'ospedale dopo un breve ricovero, ma i sindomi in seguito si ripresenteranno. Dopo una serie di esami, analisi e visite specialistiche, gli viene diagnosticato il morbo di Becet, malattia rara, autoimmune, che colpisce i vasi sanguigni di tutto il corpo e che, fortunatamente nel caso di Sante, è selettiva e circoscritta ai soli occhi. Per ben due anni, quindi, rimane in cura presso il Policlinico di Bari. Ma dato che la situazione non sembra migliorare, anche se Sante vive appieno la sua vita, si decide di farsi curare nell'ospedale San Carlo di Potenza, nel reparto di reumatologia, dove il primario era riconosciuto come esperto nella malattia del morbo di Becet. Per i seguenti dieci anni, con cadenza bimestrale, Sante si rega all'ospedale di Potenza per ricevere l'infusione di Remicade in Fliximab, farmaco biologico in grado di bloccare l'avanzare della sua malattia, ma non considerabile una cura risolutiva. Tutto trascorre tranquillo e la sua vita ritorna serena, tanto che il 9 marzo del 2017 Sante e Stefania convogliano in nozze. La terapia funziona a tutti gli effetti, Sante non mostra alcuna ricaduta, né ha sintomi di alcun tipo, tranne una leggera pseudopiastrinopenia, scarsità di piestrine, rilevata nel corso degli anni, che nel 2018, su richiesta dei medici dall'ospedale di Potenza, venne valutata da un dottore specialista in ematologia, che ne accertò la conformità non preoccupante, dovuta alla cura ed alla malattia. Quindi per Sante la vita continua normalmente, lavoro, passioni, amicizia, e soprattutto la vita notizia che presto sarebbe arrivato il primo figlio, che purtroppo non conoscerà mai. Ma nel marzo 2020 i medici dell'ospedale di Potenza informano Sante che le infusioni non saranno più con Rimicade in Fliximab, ma con Flixabi in Fliximab, informando Sante che si tratta di un medicinale generico, omettendo che il nuovo farmaco è sottoposto a monitoraggio addizionale, cioè medicinale oggetto di un ristretto e specifico monitoraggio da parte dell'agenzia regolatoria. Sante si sottopone alle infusioni bimestrali del nuovo medicinale. A detta sua, dato che noi non abbiamo tra le mani nessun documento a riguardo, iniziata a maggio del 2020. Già le consuete analisi ematiche nel mese di luglio 2020, procedura abituale che monitorizza la condizione fisica del paziente prima di ogni seduta infusionale, evidenziano una lieve leucopenia, ossia riduzione dei globuli bianchi ed altri valori non regolari e nella visita di controllo precedente all'infusione del 13 luglio nessuno si è allettato. Nel seguente controllo, a settembre 2020, dalle analisi i valori tendono ancora a peggiorare, ma pur notando i valori non conformi alla regolarità, il medico che visita Sante ritiene opportuno non agire di conseguenza, tralasciando immutata la terapia. Arrivati a fine ottobre, Sante inizia a sentirsi affaticato, perde sangue dalle gengive, presenta lividi su braccia e gambe. Le analisi di routine del 4 novembre mostrano un quadro allarmante, un'impernata di globuli bianchi, abbassamento dalle pestrine ed altri valori sbaragliati. Sante allerta tutta la famiglia, che con lui si attiva a consultare medici e specialisti per comprendere cosa fare. Quindi, prima di ogni altro ospedale, Sante chiama il San Carlo di Potenza, ma solo dopo alcuni giorni riesce a mettersi in contatto con uno dei medici che lo seguono. Gli comunica i risultati degli esami ematologici e richiede di essere ricoverato presso il San Carlo, presumendo che lo sbalzo dei valori ematici fosse dovuto al cambio di terapia. Il medico invece lo rassicura del contrario. Il medicinale Flixabi-Infliximab non poteva portare a quello stravolgimento e gli consiglia di rivolgersi a un ematologo di fiducia, cosa che Sante fa. Lo specialista informato dei fatti gli prescrive delle fiale di Tranex, un antiemorragico, nell'attesa di ulteriori accertamenti. Sante, il 7 novembre, subito dopo aver ripetuto le analisi, spaventato del risultato ancora più preoccupante, si presenta al pronto soccorso dell'ospedale Mule di Acquaviva delle Fonti, accompagnato da me per richiedere ricovero e dopo diverse ore d'attesa gli viene assegnato un posto nel reparto di ematologia. Sante e tranquillo, anche se stanco e perplesso, dato che non viene sottoposto sin da subito a nessuna cura specifica per ripristinare i valori ematici, ma gli somministrano, oltre al già prescritto Tranex, l'oncocarbide, che ha tra le controindicazioni il divieto di somministrazione per coloro che hanno la piastrinopenia e, come dimostrano le analisi eseguite dallo stesso Mule, Sante era affetto da grave piastrinopenia incalzante. La mattina dell'11 novembre viene dimesso come d'accordi presi tra gli ospedali del Mule e l'ospedale cardinale Giovanni Panico di Tricase, Lecce, per trasferirsi nel medesimo, con il fine di approfondire gli accertamenti clinici e sottoporre il paziente a cure più adeguate. Ma al momento delle dimissioni il quadro è più devastante. Sul commento di chiusura della cartella clinica consegnata a Sante dal Mule è riportato piastrine assenti e blasti pleomorfi di grandi dimensioni. Si sospetta emopatia acuta. Dimesso alle 10 circa, senza alcuna urgenza, siamo andati a Tricase con la mia auto e non con l'autombulanza. I medici infatti non hanno segnalato alcune allarme al loro paziente ma si sono limitati ad informare Sante di avere una pressione arteriosa altissima ma non ne hanno specificato i valori. Dopo aver percorso centinaia di chilometri alle 13.30 circa, Sante si presenta al pronto soccorso dove attende per ore le ennesime procedure anti-covid. Alle 16.27 ci sentiamo per l'ultima volta e mi spiega che si trova solo in una stanza isolata ed è molto preoccupato e si sente molto rattristato ma non accusava nessun sintomo. Alle 17.21 io lo richiamo per la prima volta senza ricevere risposta. Pensando che stesse facendo procedure cliniche varie non allarmato di nulla passati diversi minuti lo richiamo diverse volte. alle 17.54 chiamo il centralino dell'ospedale nel tentativo di farmi mettere in contatto con mio figlio ma il reparto di ematologia non risponde. Subito dopo mi rico alla portineria dell'ospedale per cercare notizie. Il portiere dopo alcune chiamate nei reparti mi riferisce che Sante sta facendo delle visite e che mi richiamerà appena libero. Non tranquillo richiamo mio figlio ma senza alcuna risposta quindi alle 18.18 riprovo al centralino ma ancora nulla. Alle 19.45 ritorno alla portineria dell'ospedale per ricevere notizie. A questo punto il portiere mi comunica dopo aver effettuato delle chiamate ai vari reparti che una dottoressa mi aspetta al reparto di ematologia. Angosciato salgo in reparto. Fatto accomodare in corridoio richiamo ancora mio figlio ma dopo poco arrivano dei medici che mi comunicano che Sante a seguito di un malore fosse entrato in coma a causa di un'emorragia cerebrale probabilmente causato da una leucemia fulminante. Il medico che d'urgenza di Leapocolo avrebbe operato mi comunica pacatamente che la situazione è molto critica e che non ci sono molte speranze. terminato dopo diverse ore l'intervento i medici confermano che la situazione è drammatica Sante non è uscito dal coma ci sono troppe emorragie e non sono stati in grado di bloccarle tutte. Lo vedo passare su una barella esanime che va dalla sala operatoria alla rianimazione ho la morte nel cuore un dolore immenso torno a casa nel frattempo alcuni parenti mi raggiungono all'ingresso dell'ospedale tra i quali la povera mamma di Sante il giorno seguente il 12 novembre contatto la rianimazione che mi dice il quadro è stabile polmoni e cuore funzionano autonomamente ma la situazione resta critica mi rego all'ospedale di Tricase con Stefania e la madre di Sante Maria e qui ci consegna una borsa con alcuni degli intumenti di Sante e di suoi getti personali durante un incontro con il primario del reparto di rianimazione che spiega di nuovo le critiche condizioni di Sante La mattina del 13 novembre mi rego in ospedale con gli altri miei due figli ma all'arrivo a Tricase proprio sotto l'ospedale alle 12 e 16 vengo chiamato dal reparto di rianimazione e mi viene comunicata la morte di mio figlio il medico ci informa che il cuore si è fermato vedrò mio figlio in una bara alle 18 circa dopo le procedure burocratiche il giorno 15 apriamo la borsa consegnateci dai medici e notiamo subito la felpa di Sante bagnata e insanguinata alcune di queste macchie di sangue appaiono stranamente sbiadite come se il capo fosse stato lavato in alcuni punti inoltre il pantalone che Sante indossava il giorno del ricovero presentava una macchia evidente di urina sul davanti a seguito di questi avvenimenti pretendiamo verità e giustizia per Sante e ci chiediamo primo perché l'ospedale di Potenza non ha monitorato la situazione di Sante nei mesi precedenti e perché pur notando i valori alterati delle analisi non si sono allarmati secondo perché hanno ignorato la richiesta di spiegazioni di soccorso da parte di Sante che aveva comunicato ad uno dei dottori che lo aveva in cura gli allarmanti risponsi delle analisi pur sapendo che tra gli effetti collaterali del nuovo farmaco Flixabin Fliximab ci sono nell'ordine problemi del sangue come bassa conta dei globuli bianchi bassa conta delle piastrine numero eccessivo dei globuli bianchi e leucemia una delle ultime probabili diagnosi terzo perché Sante non è stato stabilizzato visto che il quadro clinico devastante di pericolo di vita ed invece dimesso con tranquillità e leggerezza dal miulli quarto punto cosa è successo nel pronto soccorso e nei vari reparti dell'ospedale di Tricase nelle tre ore e quindici minuti dal momento di perdita di contatto tra me e mio figlio perché nessuno mi ha informato degli accadimenti nel mentre succedevano avevano il mio numero di telefono ed invece sono stato io che ho richiesto più volte informazioni su mio figlio perché la felpa insanguinata se chi mi ha informato delle drammatiche condizioni di santi e mi ha comunicato di un valessere improvviso dovuto a un mancamento d'aria nel mentre lo stavano visitando perché il sangue sulla felpa in direzione della testa stranamente dove è stato operato non mi è stata comunicata alcuna vicenda di emorragie esterne a un mancamento che si ha che che mi ha non mi ha a un Grazie a tutti